La rivoluzione bolshevica russa. Scoppia la rivoluzione di febbraio. Come sappiamo nel 1917, l'anno peggiore per tutti i paesi coinvolti nella prima guerra mondiale, la Russia uscì dal conflitto. La situazione nel paese era insostenibile. Oltre 2 milioni di soldati erano morti, l'esercito era in fuga e i tedeschi occupavano una parte del territorio russo. A Pietrogrado, l'ex San Pietroburgo, nel febbraio scoppiarono rivolte spontanee e le truppe inviate a sedare i tumulti si schierarono dalla parte degli insorti. Rendendosi conto dell'ostilità della maggior parte della popolazione, lo zar Nicola II abdicò. Con lui finì la monarchia dei Romanov, che regnava da più di tre secoli. Dopo l'abdicazione dello zar, il potere fu diviso fra un governo provvisorio che, contrariamente alle speranze della popolazione, decise di continuare la guerra, e i Soviet, in Russia o consigli, che contemporaneamente si andavano formando in tutta la Russia. Nei Soviet prevalgono i partiti socialisti. I Soviet erano consigli di delegati eletti direttamente sui luoghi di lavoro. Nelle fabbriche, Soviet degli operai, nei reparti militari, Soviet dei soldati e nei villaggi, Soviet dei contadini. I Soviet difendevano i diritti dei lavoratori e dirigevano le lotte politiche per cambiare le società russa. All'interno dei Soviet prevalevano i socialisti, che erano divisi nelle due opposte frazioni dei Mensheviki e dei Bolsheviki, nate nel 1912 da una divisione del Partito Socialdemocratico russo. Mentre i Mensheviki, parola russa che significa di minoranza, pensavano che i tempi non fossero maturi per un cambiamento rivoluzionario della società, i Bolsheviki di maggioranza ritenevano indispensabile una rivoluzione che portasse i proletari al potere. Scoppia la rivoluzione di ottobre. La guida del movimento rivoluzionario fu assunta nel marzo del 1917 da Vladimir Ilyich Lenin, tornato in Russia dopo anni di esilio. Egli lanciò la parola d'ordine, tutto il potere ai Soviet. I Bolsheviki, nella lotta fra il 24 e il 25 ottobre 1917, 6-7 novembre secondo il calendario in vigore nell'Europa occidentale, occuparono a Pietrogrado il palazzo d'inverno, sede del governo, le centrali telefoniche, le stazioni ferroviarie e le banche. I soldati del governo provvisorio opposero scassa resistenza e l'insurrezione detta rivoluzione d'ottobre o rivoluzione bolshevica avvenne quasi senza spargimento di sangue. Fu immediatamente costituito un nuovo governo, il consiglio dei commissari del popolo preceduto da Lenin e formato soltanto dai bolshevichi. I provvedimenti del governo rivoluzionario, uno dei primi atti del nuovo governo, fu l'abolizione della grande proprietà fondiaria. Tutte le terre dei grandi proprietari passarono ai sovi e dei contadini. Così i bolshevichi esaudirono un secolare desiderio dei contadini russi, possedere la terra che lavoravano. Nel marzo 1918 il governo bolshevico firmò una pace separata con la Germania, pace di Brest-Litovsk, accettando di pagare un prezzo altissimo. La Russia perdette infatti la Finlandia, l'Ucraina, la Polonia, i paesi baltici, l'Estonia, la Littonia e la Lituania, che poco dopo divennero indipendenti. Nello stesso anno fu proclamata una nuova Costituzione, che attribuiva tutto il potere ai sovi e degli operai, dei contadini e dei soldati, considerati i veri rappresentanti del popolo. I bolshevichi instaurano il regime dittatoriale. Il potere in realtà restava in mano al partito bolshevico, che nel 1918 aveva cambiato il suo nome in quello di partito comunista. Esso si proponeva di far trionfare in Russia il socialismo, seguendo le idee marxiste della lotta di classe. Negli anni 1918-1919 gli uomini di partito cercarono di rafforzare il proprio potere imponendo un regime dittatoriale, reintrodussero la pena di morte abolita nel 1917, perseguitarono gli oppositori della rivoluzione ed eliminarono tutti gli altri partiti mettendoli fuori legge. Scoppia la guerra civile e il comunismo di guerra. I sostenitori del vecchio regime e le guardie bianche scatenarono in Russia la guerra civile. Erano affiancati da corpi militari francesi, inglesi e giapponesi, perché in Europa e in Asia si andava diffondendo la paura che la rivoluzione si propagasse in altri paesi. Contro le guardie bianche il governo bolshevico organizzò l'Armata Rossa, un esercito molto efficiente e disciplinato, creato e guidato dal rivoluzionario Leone Troschi. Per sfamare i soldati dell'Armata, le guardie rosse venivano confiscati a forza i prodotti agricoli e il bestiame nelle campagne. Questi provvedimenti, noti con nome di comunismo di guerra, danneggiavano i contadini. Essi reagirono producendo solo ciò che serviva alla propria sopravvivenza. Così la Russia precipitò in una grave carestia che provocò un gran numero di morti. Trionfa la rivoluzione comunista e nasce l'URSS. Nonostante tutto l'Armata Rossa guidata da Troschi riuscì a sconfiggere l'esercito contro-rivoluzionario e la guerra civile 1918-1920 ebbe fine. A questo successo contribuirono anche i contadini che in gran parte appoggiavano la rivoluzione. Infatti, se i bolshevichi fossero stati sconfitti, le terre sarebbero ritornate agli antichi proprietari. Nel 1921, finita la guerra civile, per attenuare il risentimento dei coltivatori danneggiati dal comunismo di guerra, Lenin adottò una nuova politica economica. Le confischi cessarono, la produzione a poco a poco aumentò e nelle campagne si formò un nuovo ceto di contadini benestanti, i Kulaki. Nel 1922 fu proclamata la nascita di un nuovo Stato, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, detta anche URSS o Unione Sovietica, uno Stato federale che ebbe come capitale Mosca, divenuta nel 1918 capitale della Russia al posto di Pietrogrado. La rivoluzione russa. La rivoluzione del febbraio 1917. Prevalgono i bolshevichi. Rivoluzione dell'ottobre 1917. Con la pace di Brest-Litosk la Russia esce dalla guerra. Ne segue la guerra civile e la vittoria dell'armata rossa. Nasce il comunismo di guerra, poi Lenin introduce la NEP, cioè la nuova politica economica, la nuova politica economica, di cui ne consegue che ne nasce l'URSS nel 1922. Grazie. 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 Grazie.